I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità su delega della procura di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un dirigente medico specialista ortopedico in servizio presso le aspe di Ragusa, Catania ed Enna e di tre imprenditori nonché di un dipendente di un'azienda fornitrice di ausili ortopedici con sedi legali a Ragusa e Enna. Il medico avrebbe fatto attestazioni sanitarie in cambio di ingiusti profitti corruttivi elargiti dai titolari di un'officina ortopedica per l'erogazione di ausili ortopedici e dalla ditta di distribuzione di prodotti cosmetici per la fornitura di creme e integratori alimentari. L'operazione denominata Deus es Machina ha riguardato sette professionisti del settore sanitario e due società del capoluogo Ibleo. Il provvedimento prevede per il dirigente medico l'applicazione della misura della sospensione del pubblico servizio inibendo allo stesso per sei mesi tutte le attività inerenti alla sua qualifica svolte alle ASP e all'INAIL mentre per gli altri il divieto per quattro mesi di esercitare attività imprenditoriali, l'esercizio degli uffici direttivi ed ogni altra attività inerente all'esercizio delle società e lavorativa. Sono tutti accusati a vario titolo di corruzione, truffa e falso.